Diplomazia racconta di una notte essenzialmente. Siamo a Parigi nell'agosto del 44, i nazisti stanno per ritirarsi dopo quattro anni di occupazione e l'ordine di Hitler è di distruggere la città, di non lasciare pietra su pietra per quando gli alleati che sono sbarcati in Normandia raggiungeranno la capitale della Francia. Le cariche più pesanti sono state distribuite qui. Tre tonnellate di che dite intorno a Place de la Concours. Quattro tonnellate nella Camera dei Deputati e nei sotterranei degli invalides tre tonnellate nella piazza del Trocaderò e per finire più di una tonnellata di tritolo sotto ciascun piede della Torre Eiffel. In questo frangente tragico si incontrano il governatore di Parigi, il generale di Trifon Koltitz e Raoul Nordling, console onorario svedese a Parigi che ha poche ore per convincere a non mettere in atto questo progetto diabolico. Lei lo sa che cosa facciamo a uomini come lei, vero signor Nordling? Li coprite di medaglie. Lei crede, alla memoria forse. Uno scontro dialettico ma che ha come tema non solo quello di salvare una città o l'Europa dagli orrori della guerra ma anche quello della responsabilità individuale, dei rischi che ognuno di noi deve correre quando si trova di fronte a delle scelte fondamentali. Perché non si faccia illusione se lei distrugge Parigi, compromette per sempre ogni futuro rapporto fra questi due paesi e il suo dovere è lasciare aperta una porta sul futuro. Il mio dovere? Sì, in quanto tedesco e in quanto essere umano. Il mio dovere in quanto tedesco è portare i miei uomini alla vittoria con qualunque mezzo. No, io non la capisco. Lei è un generale, non è un delinquente, non può permettere che accada una cosa del genere. Parigi non appartiene a voi. In realtà è una ricostruzione arbitraria perché nessuno era testimone del dialogo che è avvenuto quella notte. C'è una sintesi, c'è un'ipotesi che mette a confronto due modi di vedere il mondo, due caratteri. Quello di un militare rigido, prussiano, abituato all'obbedienza cieca e quello invece di un viveur nato a Parigi che ama la sua città e che vuole risparmiarla da una logica invece mortale. La sua città è un'ipotesi che mette a confronto.